Benissimo, intanto un dato di box office, questo film è uscito a dicembre dell'anno scorso e contro ogni previsione, nessuno se l'aspettava, è stato il secondo incasso dopo Tolu Tolu e io dopo averlo visto questo film penso che voglio dire qualcosa, perché film di Ken Loach, alcuni film nel passato hanno avuto successo anche, ma una cosa così era veramente inaspettata. Un'ipotesi potrebbe essere che la necessità di affrontare certi temi e che certi temi arrivino alla testa e forse anche al cuore delle persone è un'ipotesi secondo me non è peregrina. Adesso arriviamo al film, il film inizia con un colloquio su uno schermo buio, poi scopriamo che quel colloquio è il colloquio tra Ricchi e Maloni, colloquio che dovrebbe essere un colloquio di speranza, di uscita da una situazione difficile che la crisi del 2008 ha provocato, come in molte parti del mondo, compreso qui da noi. Finisce con un'immagine che diventa buia e finisce in un'immagine dove Ricchi è dentro al camion inquadrato di fianco, quindi senza prospettiva, noi non vediamo la strada dal suo punto di vista, la sua faccia ovviamente è tutto un programma e la luce del giorno in un attimo diventa buio. Finale terribile senza speranza è di un film che io credo sia uno dei più tristi, per me personalmente è stato uno dei più tristi di questi ultimi anni, di film che ho visto. In mezzo ci sta una scena che forse pochi avranno colto perché è quasi messa lì per raccontare, ci sta, ma non è stata enfatizzata o evidenziata quella scena. Ed è la scena in cui noi vediamo Ricchi che ha appena comprato il furgone e lo vediamo con la solita inquadratura, come tutte le inquadrature di questo film, nel furgone di lato, quindi in un'inquadratura che non ha nessuna prospettiva. È inquadrato di lato, non si sa dove vada, si vede solo lui dentro il furgone. Improvvisamente, unica scena del film, la macchina da presa di Ken Loach, prende una diversa angolazione e diventa prospettica. Con un piccolo particolare però, non è dal punto di vista di Ricchi che guarda avanti, no, è dal punto di vista proprio del regista che si mette lì e in questa prospettiva cosa c'è? C'è il furgone di Ricchi che va. La prospettiva è Ricchi dentro un furgone e il film finisce infatti così. Come sempre il cinema, vedete che questo non è uno dei migliori film, secondo me, dal punto di vista strettamente linguistico, tecnico di, come si chiama, di Ken Loach, ma è chiaro che un film di Ken Loach è un livello abbastanza alto comunque, anche se non è tra i suoi migliori. Ma certamente è di un'attualità spaventosa un film che non fa sconti, un film che ci mette di fronte a dei pensieri, a una radicalità di pensiero e di riflessione che secondo me è ineludibile e da cui secondo me non si può sfuggire. Adesso andiamo un attimo ad analizzarlo. Intanto ricordo, sottolineo meglio, quello che Ken Loach è, è uno dei registi più coerenti ed è uno di quelle persone che sono fuori moda perché? Perché hanno un'idea precisa di uomo e un'idea precisa di mondo e dentro a questa idea precisa di mondo lui svolge un percorso strepitoso, coerentissimo, col suo fedelissimo Paul Laverti grande, sceneggiatori, dialoghi, i film di Ken Loach, le sceneggiature sono sempre molto belle. E appunto questa coerenza arriva a una radicalità che è veramente inquietante, mi permetto di usare questo termine, che però già una quindicina d'anni fa, io col tempo litigo, in un film di cui purtroppo non ricordo il titolo suo, dove sottolineava agli inizi di cosa? Dello sfaldarsi del collettivo, sindacati che se ne andavano, lavoro, voi sapete che il lavoro è tema fisso di Ken Loach, attorno al quale si sviluppa tutta una serie di percorsi laterali che però partono tutti da lì. Lavoro che vuol dire tante cose, arriveremo poi a vedere un po' meglio questo aspetto. Comunque dicevo, in quel film sottolineava Ken Loach cosa? Che la progressiva frammentazione, la mancanza di solidarietà legata al fatto, l'inizio di una mancanza di solidarietà legata al fatto che il lavoro diventava sempre più individuale, non era più qualcosa pensato collettivamente o organizzato collettivamente e quello che erano le istanze collettive diventavano semplicemente istanze individuali, frammentazione, isolamento eccetera. Già all'epoca, io dico 15 anni, magari sono anche 20, non ricordo esattamente, Ken Loach ci avvisava, attenzione perché su questa strada finisci come aveva fatto finire questo film, quella sconfitta. E in questo film io ricordo che c'è un momento bello, uno dei pochi momenti di pace, tranquilli, quando Abby, la moglie di Ricky, va da una delle sue pazienti, pazienti, si, le chiamano clienti ma onestamente non mi sento chiamare clienti, una delle signore da cui va per acudirle e gli sfogliono delle foto e questa signora racconta di uno shopro dei minatori dove lei era lì, andava in cucina, aveva fatto mangiare per 500 persone da mangiare eccetera. Il ricordo di un tempo, niente è per caso nel film di Ken Loach, il ricordo di un tempo dove c'era solidarietà nelle difficoltà e si respirava in quel momento davvero un bel momento, uno dei pochi momenti davvero felici di questo film. Poi credo sempre con quel signore o addirittura in quella scena, non ricordo bene, Abby dice, io rischio, devo stare attento, perché? Perché noi non possiamo fare amicizia con i clienti di sera, clienti, purtroppo li chiamano così, frasi illuminanti, teniamole un attimo lì e vediamo un po' quali sono i grandi temi che percorrono questo film, che sono dentro i grandi temi, però sia ben chiaro, di Ken Loach. Però qui vengono quantomeno radicalizzati e entra un tema molto nuovo per come è pensato e declinato. Il grande tema ovviamente è quello della solidarietà. In questo film la solidarietà è residuale e soprattutto non appartiene più al mondo del lavoro, c'è maluoni che è una cosa orribile, ma è tanto orribile perché è vera. Quella gente lì c'è e quel modo lì di lavorare, i riders, i pony express, eccetera, quel mondo lì c'è, sia ben chiaro, c'è. Io ricordo a tutti che qualche tempo fa si era parlato di cosa? Di quanti suicidi c'erano in Amazon. se ne è parlato poco e adesso non se ne parla più, ma il problema esiste, però non se ne parla più. Vi dicevo, quindi il tema della solidarietà che è dominante e vedete anche con una famiglia di brave persone, felici prima ovviamente, con però i problemi che la crisi economica aveva portato, come progressivamente si sfalda, nonostante che si vogliano bene. Nonostante che si vogliano bene. E la mettiamo lì anche, anche questo come tassello e poi li mettiamo tutti assieme. Il film, infatti, se voi ci avete fatto caso, inizia come? Inizia dopo quella scena che vi ho raccontato del furgone e di come viene inquadrata la Ken Lodge, inizia con una serie di, con un montaggio anche abbastanza veloce, dove si vede Ricky, si vede Abby, si vedono i figli, ma tutti isolati. Tutti isolati, a flash, dove non sono più assieme, cosa li tiene assieme? Cellulare, smartphone, iPhone, quello che è. Certo che per chi c'era su con il cellulare come me, vedere questo film viene una rabbia addosso da spaccarli tutti. Chiuso il problema comunque. Voglio dire, queste scene hanno questa caratteristica, sono flash su momenti di vita di casa, dove però i riflessi sull'individuo di queste azioni non ci sono mai, sono messi lì. È come un inizio, un fatto che vale in sé, ma che non porta a nessuna conseguenza. Qui voglio dire che Ken Lodge è davvero diabolico, perché è il momento in cui c'è la novità, il grande tema di oggi, la novità che fa premio su ogni cosa, perché è una novità. Non ci si chiede a cosa porterà. Il nuovo è sempre una cosa bella. In una società dove tutto deve cambiare perché niente cambi, ma questi cambi continui, io ricordo, sono soprattutto cambi di origine economica. Ogni novità porta qualcosa in più da comprare e quindi soldi in più da spendere. Ma detto questo, è un momento appunto dove le conseguenze di quello che sta succedendo non si vedono. Poi però, diabolicamente, questa è una sorta di thriller sociale, cosa succede? Succede che nella seconda parte del film quelle azioni cominciano a vedere le conseguenze e lì si sviluppa tutta la parte drammaticissima finale. dove la solidarietà si sfalda letteralmente. Perché? Perché lì non governa il principio della solidarietà, ma c'è la maledetta macchinetta che detta i tempi e detta letteralmente non i ritmi, ma la vita delle persone. Incredibile. Questo vale anche per Ebbia. L'altro grande tema però, secondo me, enorme, il vero tema di questo film è il tempo. È il tempo. Se voi ci pensate, tutto viene cadenzato in maniera implacabile in un tempo dentro il quale l'uomo, l'individuo, ci deve stare. Non è più un tempo a disposizione dell'individuo, è l'individuo a disposizione di un tempo che altri hanno stabilito essere il parametro di ogni azione. Addirittura due minuti fuori dal camion, bì, 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 quel maledetto... Io devo dire, in quel momento lì, quando hanno spaccato quella macchinetta lì, sono stato solidare anche con i ladri. Ecco, per un attimo. Ogni cosa non è tutta negativa, no? L'hanno fatto, certo, bruttissimo, però hanno fatto bene a spaccarglielo, secondo me. Va bene, scusate, tanto per alleggerire un po'. Ecco, il tempo. Ebbi, Ricchi, non hanno più tempo per la famiglia, perché il lavoro impone che tutto venga fatto in un tempo veloce, perché il tempo veloce è danaro. Maloni in questo è chiarissimo. Io sono la carogna numero uno, ma io sono quello che produce utili. Dovrebbero farmi un monumento, dicevano, perché io produco lavoro. E quindi questo è un film dove il tempo fa agio su tutto. Non c'è spazio per nient'altro. C'è qualche inconveniente, c'è da seguire il figlio, che poi torneremo anche sulla figura, arriveremo meglio alla figura del figlio, fondamentale, bellissimo, come è descritto. Tutto no perché non c'è tempo. Qui c'è tempo per una sola cosa, per produrre, per lavorare. Punto. Non c'è altro. Io vorrei fare a questo punto una sottolineatura, metto assieme un po' di temi, poi tiriamo le fila. Perché è un film, guardate, che dal tema principale, molto evidente, a tante di quei rivoli che meriterebbero ognuno, bisognerebbe stare qui a veramente tre giorni a parlare di questo film. Ricchissimo, bellissimo. Allora, dentro appunto tutto questo c'è cosa? C'è un fatto, come vi dicevo prima, no? Ed è illuminante questo film su questo punto. Lavoratore, consumatore. È da anni che c'è stata una mutazione, secondo me, identitaria, che passava da dove? Dall'identità basata sul lavoro, che è un'identità, ricordo tutti, collettiva. Il lavoro non era pensato individualmente, ma collettiva. Molti di voi avranno avuto esperienze di genitori, di nonni, quantomeno lo so, che dicevano, io mi ricordo ancora, no? Passava le macchine, quella macchina l'abbiamo costruita noi, perché magari lavoravano all'Alfa, alla Fiat, l'Alfa che era qua vicino a noi, no? Era una cosa fatta anche da loro. Vi ricordate Gran Torino, quando il personaggio, Clint Eastwood dice, l'ho fatta io? Si produceva, e in quel produrre c'era dentro qualcosa di proprio, in un lavoro che era comunque duro, e con tutti i problemi, per carità. ma l'identità collettiva è costruita sul fare, sul fare. È sempre bello fare qualcosa e aggiungere qualcosa. Oggi siamo passati invece alla identità, basata tutta, a parte sull'apparenza, sul consumare. E il consumare, io ricordo tutti, che vuol dire distruggere. Anche consumare cibo, distruggere cibo, perché è necessario, ma anche oltre il necessario. L'importante è consumare, avere per consumare. Se voi ci fate caso, no? Quante volte avete visto in TV o sentito alla radio parlare di sindacati? Che sia ben chiaro, hanno fatto le loro cavolate, sono state messe anche sotto la lente critica. Tutto giusto, qui nessuno è perfetto. Però io ricordo che le grandi stagioni delle grandi riforme sono venute anche attraverso i momenti collettivi, sindacali e non solo. Poi arriveremo sui momenti collettivi e sui giovani. In questo senso la figura di Seb è strepitosa per come è stata disegnata da Ken Loce e soprattutto da Paul Laverty, lo sceneggiatore. I sindacati non si sentono più. Cosa invece si sente spesso? Chi sono spesso gli ospiti delle trasmissioni della TV o della radio? I rappresentanti dell'Associazione dei Consumatori. Guarda un po'. È cambiato tutto. E in questo senso è chiaro che non è una presa d'atto e basta. Perché qui Ken Loce va giù pesante. Perché? Ci sono un paio di cose che dice Maloni e vediamo un po' come funziona Ricchi. Ricchi va con la figlia in un momento di gioia, cerca di conciliare il lavoro e fare con la figlia. Poi Maloni si è in carica di dirgli ma tu con chi eri? Eh ma il furgone è meno... Eh ma il franchising è nostro. Un cliente si è lamentato probabilmente quello a cui la figlia aveva messo il biglietto deve riparare. Cioè per dire anche com'è la gente. E quindi tu non puoi più portarla. Punto. Non c'è niente da fare. Un momento di gioia non basta solo produrre ma tu per produrre non devi disturbare i signori clienti. Punto. Seconda considerazione. Tutto questo tempo, in queste ore, eccetera, vedete che fa vedere più volte come avvengono le consegne, eccetera. e scusate ma qui c'è un problema perché Ken Loach ci dice ok ma questi ritmi, questa velocità così, perché? E lo dice Maloni vogliono le cose in tempi rapidi pagate meno. Punto. Allora qui la domanda siccome Ken Loach non fa sconti molto lucidamente dice ma in tutta questa roba qua noi non c'entriamo nulla. Urca se c'entriamo come consumatori. Perché potremmo porci la domanda ecco il tempo ma quante volte volendo la consegna rapida abbiamo davvero bisogno che sia rapida? Guardate che tutte le volte non è affatto così aspettare qualche giorno e averla il giorno dopo il giorno stesso non è un cibo di cui siamo rimasti senza di cui abbiamo bisogno qualche volta sarà così. Quindi per essere molto chiari anche Francian i capricci di troppa gente consumatori su chi si fanno danno a chi creano danni a chi lavora e questo è il punto. Qui c'è stato un cortocircuito omicidiale dove la gente consumatrice è contro se stessa lavoratrice e questa è stata la grande mutazione una delle grandi mutazioni del nostro tempo i lavoratori non ci sono più c'è il lavoro se prima c'erano i lavoratori e con loro si doveva fare i conti per i diritti per una dignità del lavoro adesso il Moloch intoccabile è il lavoro e in questo film è chiarissimo tutto viene sacrificato al lavoro. Legato a questo c'è un grande tema politico io ve ne butto lì anche un po' così random perché guardate che è un film dove tutto si lega io quello che vi dico è tutto tenuto assieme e questo è il grande di questo film la grandiosità di questo film ci sta anche l'altro grande tema della libertà sapete che siamo nell'epoca della libertà rivendicata libertà di comunicazione il web che è libertà la gente che è protagonista il Parlamento con la democrazia diretta tutte cose la gente siamo liberissimi io ricordo una battuta fulminante di questo film verso la fine quando Ricky disperato contro il figlio e la moglie che lo vogliono fermare dice io non ho scelta siamo pieni di debiti e devo andare forse quando parliamo di libertà dobbiamo cominciare a ridefinirlo e a ripensare a questo concetto noi crediamo di essere liberi e qui torniamo farò per qualcuno sarà noiosamente l'ennesima volta che ripeto ma l'esempio quando siamo chiamati a scegliere cosa siamo chiamati a scegliere questo è un corollario che vi metto lì perché è inevitabile mettervelo lì e facciamo l'esempio classico della strada qui ci dicono come andiamo a Roma buttata lì come dato di fatto come andiamo a Roma con una macchina con la bici con la macchina elettrica con la bici elettrica con la moto facendo l'autostrada o percorrendo strade laterali e questo diventa il tema peccato noi siamo chiamati a scegliere queste cose qua peccato che ci stanno prendendo bellamente in giro perché è la vera scelta non è quella e purtroppo nessuno però alza la manina a dirlo e se io voglio andare a Tresto a Torino qualcuno mi ha chiesto dove voglio andare o no no è scontato che si debba andare a Roma per dire Roma un altro posto ovviamente quello è la vera libertà dove io voglio andare come ci devo andare è il giochino che si dà ai ragazzini per consolarlo alla gente bisogna dare un po' di protagonismo diciamogli come cavolo vogliono andare a Roma no la vera libertà è dove voglio andare e ovviamente la metafora della città è proprio la metafora della visione del mondo dov'è la libertà io la butto lì perché su questo andremo lontanissimo questo è un tema sociologico psicologico e filosofico noi ci abbiamo fatto una stagione filosofica sulla libertà qualche anno fa questi sono i grandi temi ma questi grandi temi di questi grandi temi voi avete mai sentito parlare nel dibattito pubblico io no o sono sordo io e molto disattento ma io non ho sentito parlare di questo Ken Loach ce la butta lì in un film drammaticissimo e ci fa anche capire che la nostra presunta libertà è nei nostri sogni e fa molto comodo a qualcuno pensare che noi siamo liberi Seb è un bravo ragazzo guardate non scandalizzatevi se lo dico ma vedete anche in certezioni come è attento anche quando il padre succede qui là è un adolescente con tutti i problemi degli adolescenti e avrebbe bisogno di cosa? di un padre che sia più presente e di una madre anche che la madre lo dice tre giorni a casa alla settimana non ce la faccio non bastano la ragazzina che fa la pipì a letto tipico modo di esplicitare il disagio psicologico emotivo tipico modo dei ragazzini dei bambini tutte mancano manca la presenza ma manca perché perché il lavoro li porta altrove le leggi implacabili del lavoro dov'è la libertà che non ci dà neanche la libertà di stare con i figli di sentire e ascoltare qui c'è una scena bellissima quando verso la fine Ricky guarda il quaderno di Seb e dice quante cose non so non sapeva nulla in quel quaderno c'erano occhi se ci avete fatto caso c'erano bocchi inquietanti anche lì segno di un disagio Seb voleva dire qualcosa e quando parla gliela mette lì dice cosa faccio io vado all'università come il mio amico che si è indebitato con 57.000 sterline a fare il call center e questa è la libertà che ci state dando e queste sono storie di tantissimi nostri giovani laureati che vanno a fare mestieri imbarazzanti rispetto alle loro competenze precaribiche tutte queste cose qua non contano nulla siamo sempre molto liberi siamo tutti molto felici poi siamo tutti incazzati scusate il termine lo uso questo perché è forte ma è quello più reale chissà come mai siamo tutti così chissà come mai ecco Ken Loach ce lo mette lì senza farci sconti ti dice ci sono un po' di cose di cui voi non parlate più e queste sono quelle che determinano una rabbia la cui soluzione la cui causa voi cercate dei posti sbagliati e con le persone sbagliate e questo è il punto poi è chiaro questo è il punto di vista di Ken Loach ma guardate che quello che manca oggi è esattamente questo gente che abbia una visione del mondo che ce la propone per iniziare una discussione seria poi è chiaro che nessuno ha la verità in tasca ma ci invita Ken Loach a dire almeno parliamo delle cose serie poi io ti dico la mia e tu mi dici la tua se no di cosa parliamo qui parlano tutti ma parliamo di stupidaggini incredibili più volte abbiamo detto qua dentro se vogliamo sapere quali sono le cose più utili interessanti e fondamentali facciamo l'elenco di quello di cui si parla e scartiamole non sono quelle andiamo a cercare tra le cose di cui non si parla perché sono quelle scomode Seb quindi cosa fa? esplicita il suo malessere fa anche stupidaggini che poi ma voglio dire lo fa più che altro come atteggiamento quando in maniera anche sfottente il padre gli parla lui è lì col cellulare ecco anche lì il cellulare è quasi come difesa padre gli parla lui si difende attraverso il cellulare ma anche lì sul concetto di libertà il cellulare che diventa lo spazio sempre più ristretto anche se in collegamento con tutto il mondo ma sempre più ristretto dentro cui ci si rifugia per ripararsi da un mondo che non sta bene più e Sebali alla fine ha anche questi atteggiamenti fa anche rubacchiare va bene la stupidaggini però il gesto la mamma glielo dice è comunque un gesto da non fare ma Seb cosa fa? Seb fa quello che fanno tutti i ragazzi o quasi tutti i ragazzi quando fanno stupidaggini oggi qui c'è un problema le parole non ci sono più l'abbiamo detto tante volte la situazione tra tutto ha impeggioramento ci hanno dato la libertà di parlare di dire quello che vogliamo sui social dopo aver fatto però un'altra operazione anche qui dati che abbiamo già detto ma ci stanno stasera e li ripeto negli ultimi vent'anni ormai perché la cosa è vecchia di qualche anno venti o forse anche venticinque anni abbiamo perso gli studenti del classico quindi quelli culturalmente e teoricamente più elevati sanno il 40% delle parole che sapevano vent'anni prima siccome il pensiero però è basato sulle parole come si può pensare senza le parole ma non solo pensare come si può esprimere il proprio disagio se non si hanno le parole giuste io parlavo con il primario di psichiatria qua di Magenta quando ero sindaco sui suicidi dei giovani su questi malesseri dei giovani che erano lì sotterranei di cui nessuno parlava ma che sono violentissimi e Galimberti che diceva a margine di una serata che aveva tutto qua a Magenta ci sono più di 5.000 tentative di suicidi dei giovani all'anno non si parla per non creare l'arme sociale non tutti vanno a buon fine per loro per fortuna ma ma questi c'è e quella è la punta di un asper di un disagio pazzesco allora i giovani in mancanza di parole e appunto parlando col primario dicevo ma è un'idea mia balorda o è vero che qui dico ma se io dico sto male chi mi ascolta può essere lo psichiatra lo psicologo può essere l'amico confidente finanzata finanzata i genitori non so ma se io non so esprimere non ho più le parole per esprimere il mio disagio interiore come faccio a comunicare il mio disagio per gli altri posso solo dire sto male e glielo chiedevo e la risposta è stata no no tu hai ragione noi abbiamo sempre più difficoltà a curare i nostri pazienti perché non hanno più le parole per dire il loro disagio tanto per vedere no le cose la cultura che non conta niente l'ultima ruota del carro come sempre e invece no allora in mancanza di questo i giovani cercano di farsi capire Seb fa i suoi disegni fa i suoi graffiti ha un messaggio in fondo non viene ascoltato e allora cosa si fanno gesti estremi dietro le stupidaggini che fanno tanti giovani non tutti ma tanti no cosa ci sta dietro ci sta dietro questo messaggio io faccio una stupidaggine così finalmente tu ti accorgi che ci sono anch'io e ti prendi carico dei miei problemi di me non dei miei problemi è il messaggio disperato è l'ultima carta dei giovani di chi non viene ascoltato ma qui ci dice che è loce è certo ma con quel sistema economico qui come fai ad ascoltare i tuoi figli quindi la responsabilità di questo di questo che ci dice di cui parla chiaramente che è loce non è una responsabilità individuale certo rispetto ai propri figli è individuale ma le cause di questa giocarsela male questa responsabilità sono i caratteri collettivi della nostra società che non ci danno quella libertà appunto neanche sui bisogni primari per fare le nostre scelte qui che è loce è pacato ma durissimo durissimo e ci butta davanti proprio tutte le nostre responsabilità perché noi siamo i cittadini e quello che avviene collettivamente è anche responsabilità nostra un'altra osservazione poi chiudo perché i temi sono veramente tantissimi e poi ci saranno domande se ci sono sempre volentieri Seb se voi ci pensate fosse stato un giovane negli anni 70 sarebbe stato in piazza a far casino scusate il termine anche lì con tutto quello violenza inaccettabile niente è perfetto niente con tutti i difetti eccetera ma era il momento in cui mettendosi assieme intanto io ricordo che in quelle stagioni si sono successe e si sono ottenute le grandi riforme pensate alla riforma delle strutture lavoratori e a come si lavorava prima pensate alla riforma sanitaria sanità pubblica una delle migliori al mondo che se ne dica no? ottenuto quello tutte le leggi sulla parità uomo-donna no? l'omicidio d'onore che è stato portato via nuovo diritto di famiglia stagione in cui la gente andava in piazza anche simbolicamente non era solo andare in piazza si metteva assieme e diceva adesso però noi vogliamo questo come diceva Ken Loach vent'anni fa a riferimento che vi facevo prima questa frammentazione questo stare soli porta al fatto che l'uomo è così debole è totalmente nelle mani dei potenti ovviamente i potenti sono sempre quelli che hanno in mano l'economia che poi governano anche la politica non direttamente ma la politica oggi è patetica è in mano totalmente alla finanza e all'economia che è così forte da mettere lì politici che vogliono loro chi bulleggia si crede il padrone del mondo di cosa quando ormai il mondo è in mano la politica ha consegnato il mondo all'economia e alla finanza adesso comandano loro e se tu non stai dentro i loro confini ti puoi muovere famoso acquario ma se esci dal tuo acquario pac quindi stai sì di qualcosa ma non devi uscire da una logica ecco le scelte primarie e questo è il punto vero quindi Ken Loce ci dice anche questo la disperazione che l'insoddisfazione che si tramuta in proteste anche così che fanno male anche a chi le fa soprattutto senza prospettiva un disagio che non riesce a trovare un'espressione pubblica e collettiva perché diventi positivo questi sono i grandissimi temi che Ken Loce con questo film ci dice e però non ci dà speranza finale di questo film è tragicissimo Ken Loce sembra dirci anche perché lui l'ha iniziato vent'anni fa sto discorso e dice non l'abbiamo capito finora forse è tardi vediamo adesso con i prossimi film cosa ci dirà ma certo che questo è un punto d'arrivo radicalmente pessimista sul mondo come dire ormai siamo fregati scusate il termine un po' da bar mi fermo qua perché ripetono andrei avanti è veramente un film ricchissimo ricchissimo se ci sono domande io bevo un attimo grazie a tutti grazie a tutti